Ma fino a... Fino a Gianna Vainvex ero contento Senza è tipo... Olaf è proprio nightmare material Proprio nightmare material Il mio problema è come dovremmo gestire quell'Olaf Cioè non... Cosa ne pensi di custom skin? Alcune sono carine e altre sono abbastanza mediocre Tante sono mediocre di custom skin Le uniche custom skin che considero veramente fighe Sono quelle per la mappa Quelle sono veramente fighe Quelle sono veramente fighe In là o in... Non penso abbia ancora il 53% Il primo giorno aveva il 53% Ma aveva pochi dati Ora 16.000 game Sono veramente pochi per giudicare un champion Ah giocano Iceborne oltre tutto Proprio come reminder che qualsiasi cosa Riot trovi a fare Quel campione previscono La gente previsce a giocarlo Tankoso piuttosto Howl Cioè Howl qua Voi non lo vedete Non lo vedete Aspetta E' qua disteso che si fa coccolare E io ho la mano sulla tastiera E lui tipo Si struscia contro con la testa E dico Coccolami Coccolami L'avevo quasi preso Vayne Con quella Q Perfetta Io stronzo potevo pazientare Comunque Io sono di nuovo full HP Gianna no Ah qua non abbiamo pingato Che c'era un lume qua Com'è addirittura Gianna Ora si gioca E io ho la mano Oh no! Let's go! No, è pazita! No, cazzo! Eh, mi dispiace! Merda! Siamo stati così gridi qua! Così gridi! Abbiamo perso un botto di exo totale... Ah, neanche troppa dai, pensavo di più! Cioè dire che una wave così grossa... Eh, se ne è molto peggio! Sì, lei è comunque già a livello 4 contro livello 3 di... di Vrain. Dove è Vain? Eh, dovevo aspettarmi che Gianna fosse già là... Noi abbiamo un heal al 5... E io però al 3... Cioè io recupererò comunque l'exp a furia di farmarla con lei, però... Mmm... Troppi minions... Pfff... Minchia se era close... Peccato! No, devo prendere l'exp con lei... Quanto siamo forti! Ma contro di loro io direi che vado di questi... Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, cazzo! Letta Sentenz chats e versiamo. e non fonzie è tutto andiamo, cazzo! è che volevo coverare il roaming mamma holy shit ho appena salvato il mio team quanto era pulito questo quanto era pulito questa è per salvare il mio team perché sennò faceva danno a voi su tutti a 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 ha bloccato il recall di cosa oh no no sono aggressiva my bad my bad sto arrivando sto arrivando ci sono anch'io 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 beitate beitate figli miei beitate quanto siamo forti quanto siamo forti questo era un bel tornado va bene così va bene così va benissimo così sono in estasi sono in estasi tipo mmm questo game ma lo dico ahhh stai prendendo i grab giusti ahhh mamma mia mamma mia sto proprio godendo quanto è divertente Pyke comunque raga quanto è divertente ma fuck volevo uscire dalla sua la sua divisione sono un maniaco sono un maniaco cosa sto facendo no in 1 via 1 da c*** mano XDD Oh fuck Ok, Vain non me l'aspettavo Mi ha preso Gianna comunque, Ward My bad, my bad, my bad Anche lei se la sente un po' E' l'autoattacco potenziato che è troppo forte sui champion My little dude Oh no No L'ho mancato Sono molto triste A caccia, a caccia, a caccia A caccia, a caccia, a caccia Ma mi manca poco alla ultima Miglia 101 HP Ma che... Ah, ha preso Hydra Famelica Il fottuto maniaco bastardo No! Ah fuck, questo fosse un pochino più low Eh, qua sto stato gridi di nuovo Super gridi Mamma quanto gridi sto andando Proprio... Me la sto sentendo troppo Ok, ok, devo calmarmi Devo calmarmi Focus Focus la poto Immergiti E andiamo con calma Andiamo con calma Andiamo con calma Andiamo a caccia Se io trovo Vinda Sola muore Andiamo soltanto a pensare E trovare il bersaglio giusto Dove? Ah, what the fuck Io di sottana Ah, c'è pure un lume qua Aspetta che... Oh, peccato Madonna Holy shit Ok, che ho poca Magic Resist Ma figa Eh, non posso rimanere così in giro No, è una mania Gastanila È appena andata in uno Vino Minchia, se lo sto scopando What the fuck What the fuck N... Ma seriamente? Cioè, come nulla fosse Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ti vedo Ti vedo Ti vedo Oh no C'è anche Vayne Questo potrebbe essere un problema Ciao Fuck Potrei aver A caccia a caccia Non posso comunque andarci Perché c'è Olaf Aspetta Togliamo questo Weee Immersione Mamma Mamma Quei grab Quanto Mi è quasi venuto duro Guarda come li terrorizzo in due Ho Eh, ho sbagliato io l'execute Ok, no, già che... Ho proprio il feeling che lui sappia che io sia qua e quindi andiamocene così, perché succedono brutte cose Cos'è quasi? Cosa ho detto? Mi sono confuso con qualcosa Eh, giusto. No, questo. Se devo prendere qualcosa... Immersione! Oh no! Ah, quasi venuto d'ora. Sì, tipo a metà strada Ecco, non è un durello ma ci si avvicina molto Oh oh Ma la Volevo almeno l'assist Sono molto triste di aver sbagliato l'esecuzione Eh, kinda my bad Potevo riposizionarmi meglio C'è qualcosa che potrei già prendere adesso? No 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 Ah, questo posso prenderlo ora Oh cazzo Immersione Arriva per stai in movimento box Oh no Corro, corro Sto correndo, sto correndo Ah, proprio così Vabbè, li ha esploditi tutti Ok Scusami Onyla si è rigirata e ha detto no Ah, ma Vex è proprio andata a bozzai da caso Cioè potrebbe difendere però Ma io ho messo, sì ho messo il demolire Ops Tronza Non so Mammà Chiupi Madonna Ooooo Chia, chiudere con un game così è stato proprio soddisfacente Tipo Mmmmmmmmmmmmm